Il nuovo piano sanitario con tutte le penalizzazioni che sarebbero inflitte al Basso Molise, nonostante la situazione continua ad essere critica all'ospedale Santimotio di Termoli, nulla si intravede all'orizzonte per il rilancio della struttura che ormai serve, l'intero territorio costiero. La rete della sinistra intesa informare i cittadini con un incontro al quale erano state invitate le varie associazioni del territorio, tutti i sindaci in realtà si sono presentati in pochi affronte di un tema che interessa tutta la collettività. Per quanto riguarda il Basso Molise quello che a noi ha colpito molto è il fatto che in tutto il piano che sono all'incirca 120 pagine a Termoli sono dedicate 6 righe e mezzo per stabilire che appunto debba diventare un presidio ospedaliero di base, il che praticamente si traduce in tagli selvaggi tra cui punto nascite, pediatria, otorino, psichiatria, molto probabilmente lo spostamento di emodinamica e se con una superficialità incredibile si parla di spostamenti a Foggia, a Napoli, a Benevento, a Vasto non si capisce dove, si parla di elisoccorso come se il Molise disponesse di un servizio, viene detto invece che dovremo utilizzare quello dell'Abruzzo con i tempi immaginabili e si dà come tempo normale, accettabile di percorrenza 59 minuti, cioè il tempo per arrivare anche solo a Campobasso, anche per pazienti colpiti da politrauma, ictus eccetera eccetera. Noi troviamo inaccettabile tutto il disegno della sanità molisana perché in questo piano il dislivello tra pubblico e privato che è assurdo non viene minimamente toccato. Secondo la rete della sinistra oltre alle penalizzazioni che saranno inflitte al Santimotio con il nuovo piano sanitario non si terrebbero neanche in considerazione le necessità delle varie zone del territorio. Non si affronta la realtà del Molise come zona orograficamente e geologicamente particolare con una popolazione anziana, con fenomeni climatici che anche qui stanno diventando acuti, tutti questi aspetti non vengono considerati, si ragiona, sono in base al decreto Baltuzzi che va assolutamente rigettato. Toccheremo anche probabilmente l'aspetto dei famosi debiti, cioè di questi milioni della fiscalità generale che la regione non avrebbe conferito alla ASREM. Toccheremo il fatto che c'è stata sicuramente una cattiva gestione sia degli altri commissari, presidenti commissari, sia anche in questo anno e mezzo il presidente Toma. Più che litigare sul fatto che non era lui il commissario non ci risulta abbia fatto e la situazione è peggiorata. Crediamo che ci siano in gioco forze sicuramente molto più grandi di noi, ma i cittadini hanno diritto di sapere e dovere di reagire.